Ben trovati a Business Leader, la trasmissione dedicata ai protagonisti del mondo economico produttivo e soprattutto ai protagonisti dell'innovazione finanziaria. Oggi parliamo di quello che possiamo sicuramente considerare uno dei settori di investimento preferiti dalle famiglie italiane, un settore che però in realtà ha manifestato negli ultimi anni un andamento in linea con tutte le altre classi di investimento. Ci sono fasi in cui questo settore è euforico, altre in cui i prezzi e le compravendite possono perdere molto terreno, mentre mediamente gli italiani non se lo aspettano e rimangono sorpresi quando il ritorno di questo investimento non è quello che appunto ci si aspetta. Ci sono però molti modi per investire nel comparto immobiliare e sono modi particolarmente innovativi che stanno intercettando sempre di più consenso anche tra piccoli risparmiatori, tra piccoli investitori. Parliamo del crowdfunding immobiliare e oggi vorremmo raccontarvi come funziona, che opportunità offre, cosa significa investire attraverso queste piattaforme che appunto abbiamo definito particolarmente innovative. Quindi diamo il benvenuto ad Andrea Maffi, founder di Trusters, benvenute, grazie. Grazie. La società che ha creato la prima piattaforma di lending, crowdfunding, real estate, 100% made in Italy. Un biglietto da visita molto impegnativo, non può deludere le vostre aspettative oggi. Grazie mille, un po' lunga come presentazione, in realtà il concetto è più semplice di quello che sembra. E quindi se ce lo dovesse raccontare il mestiere che fa, come ce lo racconterebbe? Allora, racconterei come, diciamo, ho cercato di spiegarlo a mio figlio Nicolás di 9 anni, quindi il papà in realtà cerca di rendere le case più belle, cerca di convincere le persone a investire i propri risparmi in un modo diverso. E quindi avvicina un mondo che, insomma, come dire, era un po' appannaggio di solo grandi investitori, a una platea un po' più ampia. Quindi cerchiamo di aiutare gli sviluppatori immobiliari, quelli seri, quelli che appunto in un'economia reale ristrutturano e quindi rendono più belle delle case, con un strumento di finanziamento alternativo che è appunto importante, che è il crowdfunding. Quindi si dà l'accesso, la possibilità a tutti di poter aiutare queste società a rendere più belle anche le nostre città, però non a gratis, quindi con in cambio un rendimento sui propri investimenti. Avvalendovi, come dicevo poco fa, anche della profonda innovazione tecnologica che in questi anni abbiamo visto associata al mondo finanziario. Tanto è vero che abbiamo preso confidenza con tanti termini nuovi, il fintech, l'insurtech e in questo caso parliamo invece di proptech, il property e la tecnologia. È così? Sì, assolutamente. È un concetto importante, tra l'altro diciamo in altre parti d'Europa più sentito. Purtroppo è un peccato che l'Italia sia un po' reticente verso quelle che sono delle innovazioni anche in un mercato antico che insomma in Italia è sentito come quello appunto dell'edilizia, del mondo immobiliare. È un peccato perché abbiamo visto delle innovazioni molto interessanti e forse i principali attori appunto in questo mercato fanno ancora un po' fatica a insomma avvicinarsi a questo mondo che però inevitabilmente insomma dovrà contaminarli in qualche modo. Assolutamente, questo è dimostrato anche dai numeri che rappresentano la vostra crescita, nonostante siate nati da pochissimo tempo perché mi pare che Trustyers sia operativa dal 2018, c'è stato anche il Covid in mezzo quindi sicuramente qualche ostacolo questa pandemia l'ha creato anche per quello che riguarda la vostra attività. Se ci dovesse invece raccontare come l'è venuta questa idea di investire nel settore immobiliare utilizzando questa novità tecnologica appunto che vuole rendere il mercato immobiliare sempre più a portata del piccolo investitore. Ma sì, questo... Che cosa l'ha incuriosita? Che cosa l'ha attirata? Ma diciamo che è stata innanzitutto un'esigenza personale che mi ha portato ad avere questa questa idea insomma che poi ho maturato con il mio team che è un team in realtà che parte da una grande esperienza in ambito immobiliare. In realtà da piccolo investitore immobiliare subito dopo i fattacci diciamo del 2007-2008 mi sono trovato a parlare con direttori di banca con il quale ho sempre avuto un certo tipo di rapporto anche insomma amichevole a parlare di investimenti immobiliari perché ho sempre amato investire nel mercato immobiliare sono un po' come dire all'antica. In controtendenza come me guardi io la appoggio pienamente anche io giusto. Esatto, ho sempre amato le cose solide cioè investire in qualcosa che come dire potevo toccare e tra l'altro in quel periodo quindi subito dopo 2008-2009-2010 trovavo diciamo nel mio percorso lavorativo tante operazioni immobiliari interessanti che potevano restituire veramente delle percentuali di rendimenti molto alti e nonostante preparavo dei meravigliosi business plan delle presentazioni insomma in maniera professionale appunto al direttore di banca e ai funzionari che appunto dovevano occuparsi di valutare queste operazioni in realtà la risposta era un po' sempre la stessa l'operazione bellissima ma il mattone non ci interessa come investimento. Io ovviamente purtroppo cadevo da questa risposta. Che poi se ci pensa una contraddizione se pensiamo a quanti sforzi fa per esempio lo Stato per riqualificare il patrimonio edilizio del nostro paese con questa gamma di bonus che sono sempre più generosi dall'altra parte invece lei che sulla sua strada trovava le sue difficoltà. Assolutamente quasi mi sono sentito dire tu hai troppo immobili e quindi per noi sei quasi povero ecco questa cosa qua mi ha portato un grande sconforto e così lo racconto sempre questo episodio perché è carino ho iniziato a mandare dei messaggini ai miei amici ho un'operazione a Milano interessante che restituisce un rendimento volete investire con me e la risposta è stata diciamo eccezionale perché un venerdì pomeriggio ricordo ancora nell'ufficio dove avevo la mia attività sono arrivate 50 persone quindi io mi aspettavo qualche amico per poter discutere di questa operazione immobiliare invece mi sono ritrovato appunto a parlare con 50 persone tutte interessate a investire con me in un'operazione immobiliare quindi se la banca non era interessata al contrario invece le persone il privato era molto molto interessato a investire con qualcuno che però conosceva quindi da lì un po il pensiero che il trust cioè la fiducia è secondo me è un valore imprescindibile quindi da qui il nome della società da qui il nome della società quindi la genesi di trust è un po per questo allora mettiamoci nei panni di queste 50 suoi amici conoscenti persone che hanno creduto nella sua attività appunto mettiamoci nei loro panni veniamo nel suo ufficio ci racconti come si fa ad investire nel settore immobiliare nel nostro paese con piccoli tagli di investimento perché immaginiamo che appunto i tagli di investimento siano abbastanza abbordabili altrimenti si perderebbe tutto lo spirito e la filosofia del piccolo investitore come si fa che cosa succede in trusters sì allora in trusters un po la nostra parola d'ordine quella della trovare inventare uno strumento che fosse semplice accessibile alla maggior parte delle persone questa è un po la nostra vision quindi semplice è l'iscrizione ad esempio basta inserire i propri dati come qualsiasi sito e insomma subito si riceve si ricevono le istruzioni per poi procedere ovviamente un investimento quindi come tale ci sono c'è un processo di autorizzativo che viene effettuato quindi viene viene fatto un quello che si chiama antiriciclaggio da parte di un istituto di pagamento di cui appunto noi siamo agenti di pagamento quindi siamo autorizzati quindi è sufficiente dopo l'iscrizione mettere i propri documenti di unità quindi carità e codice fiscale e la banca rispetto di pagamento con la quale siamo appunto le quali siamo autorizzati procede a fare una serie di verifiche nel momento in cui la verifica da esito positivo da quel momento è possibile investire in piattaforma come trasferendo un catalogo di investimenti che avete a disposizione in un determinato periodo di tempo un portafoglio immobiliare qual è la disponibilità appunto e l'offerta per il risparmiatore ma noi fino ad oggi abbiamo appunto finanziato diverse operazioni immobiliari che il nostro concetto è presentare tante proposte immobiliari noi normalmente cerchiamo di proporre almeno due proposte immobiliari a settimana quindi è uno sforzo notevole riuscire a selezionare le proposte immobiliari migliori perché questo è il nostro compito avviciniamo appunto i piccoli investitori alle società che riteniamo più meritevoli di appunto prendere questo denaro in custodia per poter fare i loro investimenti quindi il primo processo è il processo di selezione molto come dire molto che va molto nel dettaglio quindi cerchiamo di trovare innanzitutto società che siano storicamente che abbiano anche leader di mercato insomma per esatto che abbiano uno storico consolidato perché devono dimostrare di aver fatto bene fino a fino ad oggi con le operazioni immobiliari valutiamo poi l'operazione stessa questo è un nostro punto di forza abbastanza importante per noi perché proveniendo quasi tutti da questo mondo come dire ci viene un po più semplice valutare la fattibilità di queste operazioni che ovviamente poi devono essere rivendute devono essere rimesse in mercato quindi l'operazione deve avere alcuni alcune connotazioni quindi la persona iscritta terminato il processo va direttamente in piattaforma e decide quanto investire appunto nell'operazione che sceglie liberamente anche questo trovo che sia un po rivoluzionario a differenza dei fondi immobiliari si sceglie se investire oppure no in totale libertà leggendo in massima trasparenza anche questo è un valore importante per la piattaforma quelli che sono i dati principali per poter scegliere liberamente quindi viene mostrato il business plan viene mostrato il curriculum della società il bilancio e tutti i dati che noi possiamo presentare all'investitore quindi l'investitore che deve essere consapevole della scelta che va a fare certo naturalmente però per ogni investimento c'è un tot di tempo nel senso che io investo ammettiamo 50 mila euro su un'operazione immobiliare che state seguendo in un determinato periodo di tempo e però con l'operazione si deve chiudere entro un tot non posso spiegare quanto tempo in medio anno sì allora diciamo che il tempo in cui l'operazione rimane in piattaforma è di 30 giorni quindi noi abbiamo 30 giorni di tempo per poter diciamo riempire questa raccolta le nostre raccolte sono raccolte piccole quindi mediamente le nostre raccolte sono dalle 100 alle 200 mila euro quindi anche questa è stata una scelta fino al principio cioè noi entriamo in parte appunto in a prestare denaro alle società che presentano le operazioni immobiliari quindi anche qua cerchiamo di conservare il più possibile il profilo di rischio dei nostri investitori appunto operazioni che si chiudono mediamente in anche in poche ore perché dipende dal questo è un po la magia del crowdfunding quindi dipende dal progetto dipende se il progetto piace agli investitori visto infatti che avevate raccontato di una partenza pazzesca per il mese di gennaio proprio con un tot di operazioni chiuse in tempi record e poi però è arrivata la brutta sorpresa ma adesso magari ci arriviamo e quindi insomma sono veramente delle operazioni che si concludono in tempi così ristretti sì a volte non superiamo la settimana dipende appunto dal progetto dipende dalle caratteristiche del progetto progetti che normalmente poi restituiscono il denaro entro 12 mesi quindi anche progetti piccoli e proprio come un botto ad un anno insomma e quindi potremmo tranquillamente fare un parallelo rispetto a questo che è un altro mercato molto gettonato dalle famiglie italiane che per la verità in questi anni hanno guardato con sgomento al fatto che rendessero negativamente quindi non rendessero affatto se dovessimo fare un parallelo non vogliamo ovviamente mischiare le mele con le pere però siccome il risparmiatore italiano non è neanche molto paziente nell'investimento guarda generalmente a un raggio temporale abbastanza breve in un anno che cosa è riuscito a garantire? ma il nostro medio anno cioè diciamo sulla base di quello che è successo fino ad ora fino ad oggi è stato si avvicina molto al 9% quindi è un tasso assolutamente importante diciamo che noi come esperti di educazione finanziaria mi passi questo termine non lo sono naturalmente mi occupo di questo argomento quando ci promettono un rendimento di questo tipo generalmente suggeriamo di scappare perché invece in questo caso non dovremmo scappare? allora è perché per le caratteristiche intrinseche proprio di questo investimento innanzitutto si basa ancora di nuovo su un asset come dire come piace a chi come me ama qualcosa di tangibile quindi parliamo di immobili parliamo di società normalmente non neocostituite quindi che hanno una storia che si mettono in prima persona e si presentano al crowdfunding noi scherzosamente diciamo cerca di restituire sempre puntualmente perché non hai una persona nei 120 è un matto su 120 che viene a bussarti a casa probabilmente lo puoi trovare quindi beh questa è una battuta ovviamente però nemmeno molto perché ho notato che ecco anche questo mezzo nuovo il fatto di proporsi di fronte a una platea rende la società timorosa molto del risultato quindi vuole fare bene vuole riuscire a restituire in tempo il rischio reputazionale che è altissimo certo è una cosa altissimo perché ripeto tutti i dati vengono messi in trasparenza noi addirittura le registriamo anche in block chain in maniera tale che siano inviolabili perché non vogliamo come dire fare le cose come dire con qualche che in qualche modo che possa essere come dire in qualche modo violato ecco il passaggio diciamo dell'investimento assolutamente certificato volevo commentare con lei qualche dato che ci racconta a livello globale cosa sta succedendo nel crowdfunding immobiliare perché effettivamente l'impulso negli ultimi anni è stato notevole allora volevo lei che la regia ci inviasse appunto le prime grafiche nel mondo a fine 2019 erano stati raccolti 20 miliardi 144 le piattaforme censite in europa 72 piattaforme sono riuscite ad accogliere a raccogliere appena 3 miliardi guardate negli stati uniti invece che cosa è successo la metà praticamente delle piattaforme ha raccolto 3 6 9 12 quasi cinque volte tanto quattro volte tanto che caratteristiche ha il mercato americano per essersi comportato così il mercato americano a parte ovviamente come dire una partenza come al solito in anticipo rispetto al resto al resto del mondo sicuramente sono state fatte delle norma ecco la normativa sono state fatte delle regole fin da subito molto chiare quindi all'inizio ovviamente anche il crowdfunding era rivolto solamente agli investitori come dire istituzionali investitori con un certo tipo di portafoglio poi mano mano insomma sei scesi per dare la possibilità a una platea più ampia ma credo che comunque la parte normativa sia stata fondamentale oggi purtroppo l'europa soffre ancora di una normativa che non è soprattutto uniforme per tutti per tutti i paesi quindi ecco diciamo questo è un grande è un grande indicato l'altra grafica invece ci fa avvicinare al nostro paese e in italia abbiamo naturalmente la lombardia che ha già uno sviluppo piuttosto tumultuoso di questo settore e il resto del territorio italiano che invece è molto distante quindi lombardia come baricentro dello sviluppo con il 68 per cento dei progetti finanziati 11 piattaforme 4 di tipo equity e 7 di tipo lending e qual è la differenza si la differenza che nella piattaforma di tipo equity chi investe diventa in pratica socio della società quindi diventa azionista in pratica della società che propone il progetto quindi via un coinvolgimento diretto perciò si condividono ovviamente gli utili ma anche le perdite in questo caso mentre lending è una piattaforma nella quale chi si scrive come la nostra presta solo il proprio denaro quindi qualunque sia il risultato in termini appunto di utili ovviamente il prestatore ha ciò che gli era stato promesso nel contratto appunto di finanziamento quindi uno è prestito l'altro è un po come faccio la differenza come sarà un'azione o un'obbligazione ecco detto proprio in maniera. Senta perché nel resto d'italia è così difficile portare questo modello di sviluppo per il settore immobiliare? Sì mi spiace dirlo è un problema un po' culturale perché comunque è un problema questo è un problema grosso perché in effetti e poi il fatto che tutte le maggior parte delle piattaforme siano nate ad esempio Milano comunque si sono localizzate in quest'area devo dire che è un po' è un po' insomma ha portato questa insomma questo traino tutto lombardo è un peccato perché noi invece siamo interessati a tutta l'Italia perché comunque ovviamente ci sono sbocchi infiniti noi amiamo finanziare anche i progetti legati al mondo del turismo e certamente insomma se penso al sud Italia o al centro insomma alle isole ci sono tanti progetti che meriterebbero di essere finanziati. Un paese con grandissime potenzialità. Andiamo ai vostri numeri invece con la grafica successiva così ce li spiega bene e ci spiega anche poi il motivo per cui avete in corso in questo momento un aumento di capitale per cui volete crescere e cercheremo di capire per quali ragioni. Allora 3.000 utenti registrati sul vostro portale fino ad ora 65 progetti finanziati 7 milioni di euro raccolti 16 rimborsate ci tenete a sottolineare nel pieno rispetto delle tempistiche e anche in anticipo perché è così importante enfatizzarlo? È importante proprio perché comunque siamo in una fase delicata cioè nella costruzione appunto della relazione di fiducia tra società investitore e tra piattaforma e iscritti alla piattaforma quindi ovviamente è un periodo delicatissimo nel quale anche rimborsare in anticipo è un segnale di serietà che meritano appunto i nostri investitori. Il mondo crowd lending specialmente è nuovo e quindi insomma cerchiamo di convincere anche gli sviluppatori che se chiudono in anticipo una proposta di rimborsare in anticipo quindi premiare i loro prestatori perché poi diventano fan questa è una cosa fantastica ci diventano follower delle società che poi propongono perché i veri attori sono le società che propongono le proposte immobiliari non trusters, trusters fa solo da 3 d'union tra appunto questi due. Questo è il ritorno medio dell'investimento appunto a livello annuale ce lo diceva prima intorno al 9% è un valore medio quindi significa che per qualche progetto sviluppato i rendimenti sono stati anche più interessanti? Sono stati qualche progetto è stato addirittura anche più interessante perché proprio era nella strategia delle società premiare per farsi appunto conoscere al pubblico al grande pubblico quindi abbiamo avuto progetti anche più ampi poi c'è tutto un criterio di valutazione ovviamente delle percentuali che però è un po' noioso quindi non va bene comunque gli appassionati sicuramente avranno il modo di andare a trovare le modalità 65 progetti finanziati qual è quello di cui lei è stato più contento più soddisfatto ma diciamo che sarò banale però diciamo che l'off bocconi che è stato il nostro primo progetto ce l'ho nel cuore perché era quello che mi dava ovviamente meno certezze nel senso che comunque come al solito quando si apre un'attività io ho avuto per tanti anni dei negozi quindi ogni volta che aprimo un negozio come dire speravo che entrassero entrassero le persone l'off bocconi è stato il primo progetto che ci ha fatto sognare perché è stato chiuso in pochissime ore quindi è quello che tra virgolette mi è più caro ecco perché è stato il primo come si dice il primo amore non si scorda mai nemmeno il primo progetto benissimo aumento di capitale in corso partito da fine giugno ha finalizzato a sviluppare in che modo la vostra attività si allora trusters appunto è giovane ma ha una grande ambizione quella di diventare la prima piattaforma dell'ending crowdfunding in italia quindi non solo la prima che sei iscritta nel registro appunto come come startup innovativa per fare questo servono grandi sforzi economici indubbiamente le startup insomma sognano di diventare grandi ma in realtà purtroppo hanno i portafogli piccoli generalmente quindi ovviamente abbiamo bisogno di risorse per poter continuare a far bene così come stiamo facendo vogliamo investire molto appunto in tecnologia abbiamo insomma lanciarci verso dei progetti tecnologiche miglioreranno anche in ambito prop tech quello che è appunto questo mondo perché crediamo che c'è tantissimo da fare siamo stati in europa ma come dire non abbiamo visto innovazioni enormi quindi siamo sicuri che possiamo fare bene ovviamente dobbiamo investire in personale qualificato la piattaforma è una piattaforma finanziaria quindi come tale deve anche riuscire a dare delle risposte all'altezza ai nostri investitori quindi ci sono tante tante cose da fare e perciò siamo in aumento di capitale quindi diamo la possibilità a chi insomma segue trusters di diventare anche nostro socio quindi come dire fare questo percorso molto sfidante insieme cosa avete fatto in questi mesi di lockdown come ha impattato la pandemia sulla vostra attività ha impattato anche sulla nostra vita personale perché praticamente io ho lavorato ininterrottamente come molti italiani praticamente dalle otto di mattina alle otto di sera abbiamo fatto tanta divulgazione questo ci è servito perché i webinar e tutto ciò che era avete fatto un investimento di questo tipo in questo periodo abbiamo fatto malgrado però avete avuto l'opportunità di farvi conoscere sì abbiamo anche testato una cosa che la realtà digitale in realtà non si ferma mai e questo c'è stato molto di conforto perché se c'era un test da fare sulla come dire sulla tenuta sulla stabilità di una piattaforma non c'era non c'è un test peggiore di quello che abbiamo passato appunto proprio uno stress test gigantesco perché se il lockdown come dire la piattaforma continua comunque a raccogliere insomma uno si augura che niente può come dire scoraggiarci a questo punto senta ci rimangono due minuti e mezzo di tempo li voglio capitalizzare al meglio allora siamo indubbiamente molto interessati ai livelli di rendimento che lei ci ha mostrato non possono che rendere come dire curiosi tutti coloro che ci stanno ascoltando visto che stanno confrontandosi con borse altalenanti titoli di stato che appunto sono sempre più deludenti quindi un'operazione di onestà intellettuale diamo anche gli strumenti ad una persona per capire bene come funziona il vostro mercato e quindi per chi non ha gli strumenti adatti per un approccio corretto a che cosa deve fare attenzione quando investe con voi? Allora deve fare attenzione ovviamente ripeto la responsabilità di Trusters è quella della prima scelta sulle operazioni e sulle società di sviluppo quindi sicuramente il progetto, i progettisti sono da valutare attentamente noi lo valutiamo con il nostro occhio che parte è tecnico quindi però è un primo filtro estremamente importante è un filtro importantissimo assolutamente quello che consiglio sempre ai nostri investitori è quello di guardarsi le dirette che noi facciamo, i nostri webinar nei quali facciamo parlare le società perché le società devono anche promuoversi loro ovviamente metterci la faccia metterci la faccia per noi già quello che mi dice non voglio fare il webinar, non voglio apparire non è un grande segnale perché vuol dire che comunque forse ha qualcosa da nascondere quindi prima di tutto guardare i webinar, guardare i video che illustrati direttamente lo sviluppatore noi cerchiamo di tirar fuori ovviamente dagli sviluppatori la loro esperienza passata ciò che vedono, ciò che immagino da imprenditori, ciò che hanno fatto fino ad oggi questo è molto importante quindi consiglio sempre ai nostri investitori ho investitori che dicevano guarda se non avessi visto il video probabilmente non avrei investito perché così dal titolo del progetto non mi piaceva ok non fermatevi al titolo del progetto, andate in profondità guardate il business plan, guardate i numeri cercate di conoscere il mercato di riferimento noi ovviamente siamo Milano centrici perché conosciamo bene il mercato di Milano e soprattutto perché il mercato di Milano è un mercato assai fluido però vogliamo spingere anche i progetti ci sono zone che tra l'altro non conoscevo ma dove in realtà si nascondono dei piccoli gioielli che possono regalare degli ottimi rendimenti e non sono sogni, è economia reale quindi sono cose tangibili benissimo, lasciamoci alle spalle al più presto speriamo la pandemia con tutti i suoi effetti naturalmente magari ci ritroveremo qui fra qualche mese ci racconterà di questi vostri numeri che io le auguro siano raddoppiati se non triplicati grazie ad Andrea Maffi, founder di Trusters e in bocca al lupo per tutto e noi ci rivediamo alla prossima puntata di Business Leader arrivederci a presto